Cicalese Interni mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti con ampie possibilità di personalizzazione per creare spazi che rispondano alle differenti esigenze funzionali ed estetiche. Con la storica processione eucaristica dalla Chiesa Parrocchiale della Santissima Annunziata al Castello e la Benedizione della Città si è conclusa la giornata più importante e significativa della 361esima edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento. Dopo la giornata di festa ai piedi del castello, scandita dai colpi di pistone esplosi in segni di giubilo, ieri sera è il momento clou, non soltanto della giornata dell'ottava del Corpus Domini ma dell'intera festa, che ricorda il miracolo eucaristico che pose fine alla terribile pestilenza che nel 1656 stava dilanando la città di Cava. Così come avviene dal 1657, quando i signori del Casale della Santissima Annunziata chiesero ai parroci di dare forma penitenziale e solenne alla processione frazionale del Corpus Domini, estendendone il percorso fino alla sommità del Castrum di Sante Adiutore affinché la città fosse benedetta dal colpo di Cristo. Anche ieri sera si è rinnovato l'appuntamento con la storica e caratteristica processione. Accompagnata da tantissimi fedeli, il Santissimo Sacramento è stato portato in processione fino alla terrazza superiore del castello da dove Don Rosario Sessa ha impartito la solenne benedizione della città dai quattro punti cardinali, proprio come fece Don Angelo Franco nel 1656. La benedizione stasera è un'implorazione che facciamo al nostro Signore perché veramente porti nel cuore di tutti quella serenità, quella pace, anche quell'impegno, quella sollecitudine per far sì che la nostra città cresca sempre più nella carità, nell'amore e nella fraternità. Questa sera, venerdì 23 giugno, alle ore 20 e 30, in programma il corteo degli appestati lungo le vie del Borgo, con partenza da Piazza San Francesco con momenti di animazione in cui viene raccontato il miracolo eucaristico. A seguire alle 21 e 30, con un gioco di luci, colori e suoni, sarà acceso lo stenzoro in Piazza Vittorio Emanuele III a cui seguirà un momento di adorazione eucaristica. Gran finale domani con la benedizione dei trombonieri in piazza e l'atteso spettacolo pirotecnico delle ore 23 da Monte Castello.